Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati e benvenuti a una nuova puntata di Turbo Daily. Quest'oggi dobbiamo fare un'analisi su quello che sta avvenendo perché c'è stata un'apertura scoppiettante da parte di tutte le borse europee e questa cosa però non ci convince tanto, noi avevamo aperto venerdì una posizione su Eni che probabilmente liquideremo nella giornata odierna, ma oggi ci concentreremo su uno strumento che è l'oro perché adesso andiamo a fare una serie di valutazioni ma dobbiamo partire dal grafico, quindi lo prendo subito e andiamo a vedere quello che sta succedendo. Quello che non mi convince in questa situazione è che l'oro si sia apprezzato in maniera importante nelle ultime settimane così come il franco svizzero, quindi è come se è vero che le borse stiano diciamo andando al rialzo, abbiamo aperto molto bene però in qualche modo forse gli investitori più importanti, gli investitori istituzionali stanno accumulando oro e franchi svizzeri che sono notoriamente delle valute rifugio, quindi in questo scenario io ho paura a posizionarmi ancora al rialzo anche perché non sembrano essere passati tutti i timori legati al coronavirus e alla ripresa delle attività, sebbene appunto si stia tornando pian pianino alla normalità, quindi il trade che voglio fare oggi è un trade di continuazione, voglio seguire quello che sta succedendo sul mercato dell'oro e voglio mettermi in acquisto, ovviamente devo trovare dei prezzi che siano convenienti, quindi ho individuato l'area appena sotto 1700 dollari per posizionarmi al rialzo con uno stop più stretto rispetto al target che ho posto sopra i massimi precedenti, scendendo un pochettino di time frame quindi andando su un grafico orario vi faccio vedere bene come di fatto questi livelli siano interessanti ma siano ancora più interessanti i livelli posti in area 1700 che è ovviamente un livello psicologico sull'oro giallo, quindi questa è la mia view, andiamo a vedere bene insieme a Benpe Paribas quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare, quindi voliamo subito sul sito dell'emittente francese che vi ricordo essere investimenti.benpeparibas.it, clicchiamo su certificati a leva, cerchiamo turbo certificate e andiamo a screenare attraverso lo screening che ci offre il sito tutti i prodotti sull'oro, vi ricordo che all'interno del sito l'oro diciamo si trova come oro e non come gold, stiamo cercando un prodotto rialzista in particolare io non voglio prendere un'esposizione particolarmente esagerata quindi andrò a prendere un prodotto con una leva modesta 6.3 e un livello di knockout a 1450 che ricordiamo annulla completamente il valore del certificato e quindi una distanza dal livello di knockout del 15 per cento. Ovviamente usciremo prima dalla posizione qualora appunto dovesse essere toccato il nostro livello di stop loss, quindi andiamo subito in piattaforma, qui ho già selezionato il certificato appunto con Ising che termina con 827, al momento quota 2 euro e 52, 2 euro e 53 andremo ad acquistare 800 pezzi a un prezzo inferiore, al momento messo 2 euro e 30 ma come sempre vi esorto andare sul sito investire.biz per vedere come via via gestiamo la posizione, questo livello sicuramente è più in basso rispetto al livello di ingresso che ho detto precedentemente, però appunto durante la giornata poi faremo degli aggiornamenti sul sito. Quindi andiamo a ricapitolare il nostro trade, è un trade diciamo di continuazione sull'oro, quindi andremo long con un livello di ingresso 1698, uno stop loss a 30 dollari che è circa il 2% più o meno rispetto al livello di ingresso e un target a 1750 punti che ricordiamo essere sopra i massimi di periodo. In buona sostanza l'idea è che se di trend rialzista si sta parlando, un trend rialzista contempla sempre nuovi massimi e insomma massimi via via crescenti. Da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio e come sempre vi do appuntamento ogni mattina alle 9.45. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.